ciao della sirena allora oggi volevo fare un bel discorso se come ieri sera mi sono visto al programma di gerascotti e sentivo dire l'anduia nel latte nei bruschetti nella pasta allora ci piacevo il discorso di gerascotti dice che non mangiamo l'anduia la mattina invece della marmellata l'anduia spalmata sul pane aveva ragione vedete vedete che aveva ragione che pure io sa mangiare l'anduia ma non si capisce niente ma non stiamo tutti chiusi è un'altra volta succede questa cosa ma cominciano con le pizze con il lievito ma non vanno sempre giù in un zappozzo al poleno uno bello pezzo di terra vedi tu un virus come si scappa quando vedi che è in calore un lavoro non fanno tutte queste cose ma io ti vedi anche capisco io ma occupando io ho comandato davvero se mi ascoltate a me a vedete capisco non davete a forza non dire una parola che io sono una poeta di induia di cipuglia di suriacamo vanno d'aria tutta forza ecco qua e per dirti che ho visto scompare quando iati ad aria otto non vi colpisce invece voi lo cacciate per fuori e mangiate patate che si sente faccia d'aria non vi resta dentro il virus no non mi sentite a me una bella piatta con le patate vanno bevete io stanotte per dire la verità ho passato una brutta nottata di dolore di pancia che mi mangiava i menzucchi di induia però la superavi ah sono bello non ho bisogno di maglione non di cappotti sto bene se vedi come vedo questo non bollo da me quante volte ci faccio bene vediamo se bene se tu c'è un peporeo e scappa e voi cosi avete di fare eh vuol dire davvero non scherzate eh e non mi scherzate che le parole mie vengono tutte tra le facce ma vedete che annuncia fino a Trumpi anche dall'America lui disse dovete mangiare piccante oh e mangiate piccante oh e ve lo dice la sirena di tropea oh mangiate piccante tutta forza che non morite mangiare la marmellatina sul pane la mattina la marmellatina delicata un po' si mangiano anche lì due a mattinata che scappano toga e finisce tutto un virus scappò via non c'è il tono va bene dai io insomma più che più lo disse però le parole mie sono vere senza che facete non mi scherzate che restate voi scherzate e vedete come vi mangiate dopo due a peperaccio e poi a patata e cicero e aria ciao